Ringrazio chi mi ha preceduto perché mi dà la possibilità di attaccare subito con l'argomento che è quella della situazione nelle varie regioni italiane alla luce della legge di conversione 119 del 2017, si è parlato della violazione del dibattito parlamentare, si è parlato della difficoltà di avere un procedimento parlamentare di elaborazione legislativa e questo ha portato appunto al caos. Ci troviamo sostanzialmente in una situazione molto simile a quella che l'Italia ha vissuto circa 70 anni fa, in una data molto pesante per l'Italia, l'8 settembre 1943, siamo nel caos più totale, dopo questa legge di conversione noi abbiamo assistito, anzi già da prima, già in corso di vigenza del decreto legge abbiamo assistito ad una corsa delle regioni, ognuno per proprio conto, all'interpretazione della norma e all'interno delle regioni abbiamo assistito alle ASL e gli istituti scolastici, ognuno per conto proprio, sempre in una interpretazione prodomo loro della norma. Tanto è vero che, come relatore che mi ha preceduto, sono state necessarie ben 3-4 circolari dei ministeri per far capire ai funzionari scolastici e ai funzionari delle ASL che cosa devono fare. È una situazione paradossale. Le regole sono diverse, da nord a sud c'è chi manda mail alle famiglie, chi prevede rinvii, chi prevede chiamate per la seduta vaccinale, ovviamente omettendo tutta la parte del consenso informato che abbiamo visto è imprescindibile, convocazione per colloqui per il recupero vaccinale, senza meglio specificare, addirittura controlli a domicilio e comunicazioni affidate al buonsenso, come per esempio dirigenti scolastici che hanno lanciato messaggi sulle chat whatsapp delle mamme. Siamo quindi arrivati appunto al caos vaccini, come è stato già illustrato precedentemente. Non farò una carrellata analitica regione per regione perché se no dopo 5 minuti dormite tutti quanti, sarò in realtà molto breve. Faccio soltanto alcuni esempi. In Piemonte sono state già spedite in agosto 61.000 lettere alla famiglia dei bambini non in regola, in tutto o in parte, con la fissazione della data per fare i vaccini mancanti e con in calce una assunzione di responsabilità a priori, sempre senza citare in alcuna parte il consenso informato. Chi invece non ha ricevuto la lettera si presume in regola, dovrà semplicemente presentare la copia dei libretti vaccinali o un'autocertificazione. In Trentino Alto Adige, essendo una regione a statuto speciale, addirittura le province vanno ognuna per conto proprio. Quindi assistiamo alla provincia di Trento che nella fascia 03 l'azienda sanitaria locale invia per posta l'attestato di conformità. Il Trentino Alto Adige è altamente informatizzato dal punto di vista sanitario. Questo attestato di conformità deve, o non conformità, deve essere depositato entro la fatidica data del 10 settembre e la prenotazione tramite CUP per vaccinare da stampare e consegnare al nido. Nei mesi successivi l'azienda sanitaria convocherà per un appuntamento per vaccinare. Nella fascia invece 3-6 anni l'azienda sanitaria invierà soltanto un attestato di non conformità. Quindi bisognerà presentare il CUP e consegnarlo entro il 10 settembre. Bolzano, l'azienda sanitaria, sta inviando una lettera ai genitori in cui fornirà la situazione vaccinale del minore, con la conferma dei vaccini somministrati o la prenotazione per le vaccinazioni mancanti. E questo documento è idoneo per la frequentazione e l'ingresso nelle scuole. Oltre a questo sono validi anche, così come dice la legge, il libretto vaccinale, l'autocertificazione o il certificato medico di esonero. In Toscana abbiamo il filo diretto tra presidi ASL. Sappiamo che è uscita questo accordo tra Ufficio Scolastico Regionale, ANCI e ASL, in cui si prevedeva che gli istituti avrebbero inviato gli elenchi alle aziende dei loro iscritti, dei bambini iscritti, e poi le aziende si impegneranno a contattare chi non è in regola. In questo caso le famiglie di chi è già vaccinato non dovranno far nulla. Allora, mi fermo qua. Qui mi preme sottolineare come sia assolutamente necessario e imprescindibile per orizzontarsi in mezzo a questo marasma, al di là anche delle circolari esplicative e l'ultima congiunta finalmente tra Ministero della Salute e Ministero dell'Istruzione dice che la idonea e formale richiesta all'ASL può far entrare il bambino a scuola. Quando noi come genitori dobbiamo capire che cosa vuole fare un governo, un'istituzione, andiamo alla fonte. Quindi andiamo al testo di legge. Per capire bene, al di là della situazione di Trento, Bolzano, della Toscana o della Sicilia, noi dobbiamo andare alla fonte perché stiamo assistendo, abbiamo assistito in questi giorni a istituzioni, scuole che hanno mandato indicazioni di tutti i tipi confliggenti tra loro. Hanno preso pezzi di circolare e si sono convinti che quella fosse la legge. Allora la circolare non è legge, la circolare è esplicativa, non può andare oltre il dettato normativo. Quindi se ci vogliamo orizzontare, tanto per entrare un po' sul dato tecnico e specifico del 10 settembre, per chi per esempio di voi sta nella fascia 06 e dopo tutti i discorsi preliminari alti di diritti costituzionali, di violazioni di questi diritti, ricordiamoci che siamo genitori e cittadini, siete cittadini e avete ognuno di voi uno zainetto di diritti fin dalla nascita. Questo zainetto di diritti è la Costituzione. Questa Costituzione vi dà modo di sapere quali sono i vostri diritti e di esercitarli. Per fare questo dovete fare lo sforzo di studiare, di confrontarvi, confrontarvi tra voi, consultarvi con i legali, eventualmente sicuramente a disposizione e di elaborare e capire qual è il vero portato normativo di una legge. E' quindi quello che vi si chiede. Vi leggo l'articolo 3 al comma 1 della legge 119. Gli adempimenti vaccinali per l'iscrizione ai servizi educativi per l'infanzia alle istituzioni del Sistema Nazionale di Istruzione e alle scuole private non paritarie. I dirigenti scolastici delle istituzioni del Sistema Nazionale di Istruzione e i responsabili dei servizi educativi dei centri di formazione professionale regionale sono tenuti all'atto dell'iscrizione del minore di età compreso tra 0 e 16 anni a richiedere ai genitori la presentazione di idonea documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie indicate all'articolo 1, ovvero l'esonero, l'omissione o il differimento o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all'azienda sanitaria locale. La presentazione della documentazione di cui al primo periodo deve essere completa entro il termine di scadenza per l'iscrizione. La formale richiesta è anche una semplice raccomandata con ricevuta di ritorno. Questo deve essere chiaro, è stato ribadito nella circolare congiunta uscita ieri, sappiatelo perché voi un domani vi trovaste di fronte un dirigente sanitario che vi dice no, non posso accettare altro se non la pregunazione del CUP perché tu non sei in regola al di là del fatto che bisogna sapere se e come questo dirigente possa sapere, possa conoscere questo dato particolare di vostro figlio. Voi dovete opporre, legge alla mano, la formale richiesta di vaccinazione e non abbiate paura a farla questa formale richiesta perché molti dicono ma se io mi paleso di fronte alla ASL, la ASL mi verrà presto a cercare e mi chiederà un colloquio. E qui entro nello specifico, non abbiate paura del colloquio, siete cittadini e siete genitori, esercitate la vostra responsabilità genitoriale, fatelo senza paura perché siete forti di quei diritti che appunto la Costituzione, seppur violata, comunque consente. Voi avete la forza del diritto da una parte contro la prepotenza delle istituzioni dall'altra. Stanno attuando con questa legge che, ripeto, ora, come hanno detto anche gli altri, ora sono i vaccini, domani saranno altri argomenti, altri temi. Stanno attuando un cambiamento da un modello sistemico della salute al modello verticale, calato dall'alto. Da cittadini l'obiettivo è quello di trasformarci in sudditi sostanzialmente. Dobbiamo avere chiaro questo aspetto nel momento in cui ci andiamo a rapportare col dirigente scolastico con cui rappresentiamo la responsabilità confliggente e amministrativa sua e genitoriale nostra dei genitori e quando vi andate a rapportare con le ASL. Prima di tutto siete genitori, siete cittadini, io lo ripeterò all'infinito, alla noia e dovete avere tutte le informazioni necessarie preliminari per procedere ad un trattamento sanitario. Partite da questo, è la vostra difesa e non abbiate paura di esercitare il vostro diritto perché da quello passa tutto. Hanno cercato e cercheranno ancora attraverso una campagna di stampa mediatica appunto alla discriminazione, a portare alla discriminazione e alla ghettizzazione di genitori che si informano più degli altri, che non si accontentano delle semplici parole di un medico. Andate sempre alla fonte, alla fonte del diritto, alla fonte delle informazioni. In questo momento assistiamo a una cosa paradossale, il maggior produttore di fake news è chi vuole fare una legge sulle fake news, il governo. Qui il problema non è neanche di tutela dei diritti, è anche di tutela dei diritti, non è sanitario, è un problema poi culturale in materia di vaccini. Tutti quanti abbiamo come un modo di dire, come un mantra, sei maggiorenne vaccinato. Noi dobbiamo piano piano scardinare questo elemento culturale, perché purtroppo se una volta era vero, adesso sempre più non lo è, perché non ci sono elementi che possono dire questo e tendono sempre più a nascondere gli eventuali eventi avversi, a negarli, a procedere a delle sperimentazioni. A questo punto non sono più tutelato da una vaccinazione, paradossalmente potrei essere tutelato al contrario. Quindi, chiudendo, ricordatevi sempre il consenso informato è imprescindibile e andate sempre a studiare le fonti. È fatica, è sudore, fate cose diverse dagli avvocati o dai medici nella vita, ma se andate a studiare poi piano piano raggiungerete una consapevolezza, vi auguro, per discernere anche queste fonti. Allora, per quanto possano produrre fake news, il dato di legge è obiettivo. I dati epidemiologici sono obiettivi, ci sta l'Istituto Superiore di Sanità che elabora questi dati, li prendete, li stampate e li confrontate col vostro medico che ve li sa spiegare, anzi ve li deve spiegare. Questo è l'esercizio del vostro diritto di cittadini. Ricordatevelo.